Questa è una legge che in pratica riordina un po' tutto perché fino ad oggi c'erano diverse norme di diversi settori che riguardava la formazione, alcune norme l'artigianato, alcune norme la sanità, quindi era tutto un insieme di varie situazioni. Noi abbiamo voluto con questa legge mettere ordine e fare una norma organica che andasse a regolamentare l'artigianato perché questi sono professionisti dove si va a valorizzare l'artigianato, la fantasia, l'arte dell'operatore. A livello di formazione perché è importante la formazione, non è possibile che ci si alzi la mattina e ci si metta a lavorare sul corpo umano quindi su qualcosa che poi rimane indelebile e poi a livello sanitario quindi avere delle strutture, dei laboratori, delle stanze dove in perfetta sicurezza si possono fare degli interventi. Abbiamo anche regolamentato che determinati settori della gioventù non possono accedere se non con l'autorizzazione dei genitori sotto a 14 anni è impossibile, sotto a 18 anni a certi tatuaggi, certi persi la stessa cosa non è possibile realizzare. Questo per dare sicurezza alle famiglie, sicurezza ai ragazzi. Con questa legge noi diamo anche un segnale a livello nazionale perché a livello nazionale non esiste una regione che è deliberata in tal senso. Quindi facciamo d'apripista. So che al Senato, infatti ho avuto contatti con una senatrice della Liguria che ha avuto una bozza di questo testo perché in Senato piano piano si sta muovendo la legislazione perché ormai si è scoperto che è un campo importante. Abbiamo circa 7 milioni di persone che si sono avvicinate ai tatuaggi e al piercing.